Questa iniziativa oltre ovviamente... Ritorna dopo 15 anni la 37esima edizione della Parata Nazionale delle Bandiere che quest'anno si svolgerà dal 7 al 9 settembre prossimo nella città di Pesaro. Si tratta del campionato italiano sbandieratori e musici della LIS, Lega Italiana Sbandieratori, in cui le compagnie affiliate gareggeranno in varie specialità per conquistare il titolo di migliore compagnia d'Italia. Cinque le specialità in cui i 17 gruppi in gara si misureranno partendo dal singolo tradizionale alla coppia tradizionale fino alla grande squadra e solo musici che prevede un brano inedito accompagnato da una componente coreografica. Siamo stati a Pesaro esattamente nel 2003 con la 22esima edizione della Parata Nazionale delle Bandiere e quest'anno siamo presenti a Pesaro con la 37esima edizione. I gruppi partecipanti sono 18, provenienti da tutta Italia, quindi sia dal nord che dal sud e dal centro, con una partecipazione di circa 500 atleti che si esibiranno in cinque categorie di gare diverse. La manifestazione sportiva di maggiore rilievo della Lega vedrà la partecipazione nonché l'organizzazione del gruppo storico La Pandolfaccia di Fano che per l'occasione dedicheranno nella serata di sabato un grande spettacolo di musica e bandiere sulle note del celebre compositore Gioacchino Rossini, oltre a una vasta programmazione dell'iniziativa. Allora, questa manifestazione si svolgerà il 7, 8, 9 settembre e il tutto partirà venerdì pomeriggio in Piazza del Popolo, se il tempo ce lo permette, se il tempo sarà avverso purtroppo dovremo andare al Palacampanana nel padiglione D e venerdì pomeriggio partirà il tutto con la gara di singolo tradizionale. Seguirà il venerdì sera con la gara di piccola squadra e successivamente il sabato mattina ci sarà la gara di coppia, al pomeriggio la gara di musici e infine si concluderà la domenica mattina con la gara di grande squadra. La manifestazione è stata promossa con il patrocinio del Comune di Pesaro e della Regione Marche. Sì, è una bella opportunità per la nostra città, è un evento di interesse anche per chi non ha consapevolezza di quello che sono i campionati italiani degli sbandieratori. È un momento di festa, è un momento dove possono stare insieme le famiglie, è una grossa opportunità anche per i turisti che saranno con noi in questi tre giorni. Siamo insomma orgogliosi che la Pandolfaccia abbia scelto la città di Pesaro per organizzare questo evento e il mio augurio è che sia l'inizio di una futura collaborazione. Siamo una città che negli anni ha investito sempre di più negli eventi sportivi come un evento di visibilità della nostra città non solo a livello nazionale ma anche internazionale.